Diffondetelo a tutti, hanno tentato di farmi una rapina, stavo tornando da Perugia in macchina, un Audi S3 bianca, targata E, F e qualcosa, quattro scarichi, la vedete bene, ti affiancano, ti puntano la torcia in faccia, quindi ti guardano, poi ti superano e ti mettono la paletta davanti. Finti carabinieri o poliziotti prima danno lo stop e poi rapinano anche brutalmente gli automobilisti. Questo audio, diventato adesso virale, si riferisce infatti ad un tentato colpo che si è consumato lo scorso sabato lungo il raccordo Perugia-Bettolle, proprio dove, sempre nello stesso giorno, una banda è riuscita a rapinare una donna in una piazzola di sosta. Uno aveva una pettorina su scritto carabinieri di plastica, palesemente filta, l'altro una pistola in pugno. A quel punto non mi è tornata la cosa, sulla siena a Bettolle ho innestato la retromarcia, gli ho piantato gli abbaglianti in faccia e sono scappato a retromarcia. Queste che hanno fatto, hanno preso e sono ripartiti in macchina e sono scappati via rapidamente. I stessi criminali avrebbero poi colpito anche in Val di Chiana, domenica pomeriggio infatti a finire nel mirino dei banditi a Badicorte, nel comune di Marciano, un imprenditore di Castiglion Fiorentino e la moglie. In questo caso i malviventi si sarebbero finti agenti della Digos e muniti di pettorina e con un'audi bianca sembrerebbe rubata in una concessionaria di Montevarchi, con l'ampeggiante hanno fermato la coppia. Le vittime pensavano ad un controllo di routine, ma invece si sono trovate a vivere una scena da film. L'uomo sarebbe stato aggredito e rinchiuso nel bagagliaio, la donna invece minacciata e colpita. Alla fine i finti agenti si sono dati alla fuga con tutto quello che sono riusciti a portare via circa 1000 euro, un orologio Rolex, gioielli della donna e cellulari. La coppia a quel punto non ha potuto far altro che allertare i militari, quelli veri, che in questo caso hanno subito dato avvio alle indagini. E così adesso è scattata la caccia ai finti carabinieri, con tutta probabilità responsabili di più episodi che si sono consumati nelle ultime settimane tra la Toscana e l'Umbria. Grazie a tutti.